Un uomo di 60 anni di Padula è finito sotto inchiesta per maltrattamento di animali. I carabinieri forestali della locale stazione hanno rinvenuto nella sua abitazione situata all'interno di un palazzo nel centro storico 18 cani che vivevano nel degrado. I militari appena sono entrati nell'appartamento hanno trovato 10 cani di razza meticcia di taglia media piccola chiusi in varie stanze. I pavimenti e i mobili erano ricoperti di escrementi e imbrattati di urina. Scarso il cibo e l'acqua a loro disposizione. La casa era invasa da un odore acre e pungente, l'aria era praticamente irresperabile. La situazione più grave è stata riscontrata nel giardino a Tigua, l'abitazione, in un locale sotterraneo al quale si accede tramite una botola di ferro. Sono stati rinvenuti otto cuccioli di circa due mesi in condizioni di grave sofferenza, rinchiusi in un ambiente molto sporco con scarsa luminosità e ariazione. I cuccioli sono stati subito messi in salvo. I veterinari dell'ASL hanno accertato le condizioni di precarietà di tutti e 18 i cani. Il proprietario della casa è stato denunciato all'autorità giudiziaria mentre gli animali sono stati microcippati e affidati in custodia ad un canile autorizzato convenzionato con il comune di Padula.